Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Può essere piuttosto difficile per alcuni attori interpretare il personaggio. Perché ai giocatori viene chiesto di essere qualcuno diverso dalla propria personalità. Colui che può raggiungere questo obiettivo non è già chiamato attore. Ci sono anche giocatori che giocano con il proprio personaggio. Kusei Tekinolu è il personaggio principale della serie TV Nord e Sud, interpretato da Kwan Statiltu. I fan che conoscono bene lo stile unico di Kwan Statiltu. Si ritrova più vicino a Kusei Tekinolu tra tutti i personaggi che ha interpretato finora. Dopo due gravi terremoti a Karaman Maras, i canali televisivi. Ha partecipato alla trasmissione della campagna di raccolta fondi. Il modo in cui l'attore è entrato in studio, che era in onda per chiedere aiuto al pubblico insieme a tanti suoi colleghi. Il suo atteggiamento ha ricordato a molti dei suoi fan il personaggio di Kusei Tekinolu. Con l'effetto di ciò, la famosa attrice è diventata in breve tempo all'ordine del giorno sui social con il suo atteggiamento durante la trasmissione per la quale sono state raccolte le donazioni. I fan hanno detto, l'uomo è entrato nel posto come Kusei Tekinolu. Ha condiviso migliaia di queste immagini sui social media. L'attore è diventato uno dei nomi più discussi della giornata con queste immagini. L'attore ha anche attirato l'attenzione sul grande dolore provato e ha detto. Condoglianze a tutti, a tutta la nostra nazione. Questo, è un disastro. Il mio cuore non ha mai sofferto così tanto fisicamente in tutta la mia vita. Quindi condoglianze a tutto il mio stato, il mio bellissimo paese. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.